Ha danneggiato alcune suppellettili, poi ha aggredito un'infermiera e infine i carabinieri. Un uomo di 30 anni è stato arrestato dai militari per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, lessioni al personale esercente e professione sanitaria e interruzione di pubblico servizio. Il trentenne, di origine nordafricana, era stato portato in evidente stato di agitazione da un'ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Fatebene Fratelli. Qui sono poi intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli per l'infermiera colpita con un calcio all'addome e lesioni guaribili in 5 giorni. I carabinieri se la caveranno con 7 e 20 giorni di prognosi.